Perché ci siamo divisi, stavo con una persona e ho trovato questo posto qui che era completamente, non c'era assolutamente niente, non che adesso ci sia, però sono andato a farmi due stanni. Però da quel momento lì sono andato qua per sistemare i cani che avevo, però ho detto non faccio niente. Non è un posto per allevare i cani, anche perché là c'era fratto, c'era un sacco di cose anche.